eccoci qui ragazzi ben ritrovati buon sabato buon fine settimana allora è appena terminata la conferenza stampa di daniele rossi in relazione alla seconda giornata di campionato ea roma empoli che si giocherà domani alle 20 e 45 all'olimpico prima partita in casa dei giallorossi partita chiaramente da vincere perché dopo il mezzo passo passo di galli non possiamo permetterci di perdere punti anche in casa con un'altra squadra che lotta per la salvezza perché poi vi ricordo che il primo di settembre dovremmo andare a giocare a torino contro una juve insomma che sta facendo grandi investimenti sul mercato la conferenza stampa di te rossi chiaramente si è parlato sempre poco della partita e questo non va bene perché insomma bisogna anche parlare di campo bisogna anche parlare di campo è chiaro che quando anche come ha detto lui insomma quando il campionato si gioca quando il mercato è ancora aperto è veramente deleterio per le squadre per le società per i giocatori e gli allenatori io spero ovviamente che sta situazione possa cambiare in futuro e che ci possa essere magari delle date differenti in modo che il campionato possa iniziare a mercato chiuso in modo di rendere le cose molto molto più semplici un daniele derossi chiaramente che a mio modo di vedere è una mia opinione l'ho visto un po nervosetto ragazzi un po nervosetto perché perché secondo me è contento che rimane di bala ma nello stesso tempo non sa come utilizzarlo ragazzi questa realtà di fatti perché ormai lui aveva in mente il suo 4 3 3 consulè dobbi che all'esterno sinistro che in teoria dovrebbe arrivare e quindi gli rode un po a me mi è parso che gli rode un po della permanenza di di bala forse lui ci avrebbe riferito che che fosse andato via per competere la rosa con giocatori in tutti i reparti cosa che purtroppo non credo che possa accadere però l'ho visto un po nervoso sia su su del pallare di di bala praticamente dalle sue parole si si cioè si capisce che non sarà il titolare inamovibile di quest'anno cosa che io trovo ridicola visto che il giocatore più forte ca in rosa cioè io ho sempre pensato che giocatori come di bala dovrebbero giocare sempre gli allenatori in base a qualsiasi tipo di modo di gioco anno lo devono utilizzare ragazzi perché è così è così ragazzi per me è così chiaramente chiaramente forse lui ormai aveva parlato anche con di bala dicendogli che non era più al centro del progetto quando doveva trasferirsi in arabia gliel'ha anche detto insomma cioè ripeto di bala è rimasto ma le valigie in mano per mandarlo via gli avevano messo dei rossi e della società questo è chiaro cioè sentire certe frasi all'entusiasmo c'è non ci sarebbe cambiato nulla i tifosi si sono abbonati uguali e si sono abbonati prima questa storia se ci fosse stata la campagna abbonamenti in corso e avrebbero venduto di bala io non lo so se avrebbero fatto 38 mila tessere d'abbonamento non è la stessa cosa domenica se non ci fosse stata di bala ci sarebbe stata maretta all'olimpico non ci sarebbe stato l'entusiasmo che lui dice poi trattare di bala come gli altri calciatori l'anno scorso era praticamente un dramma se mancava stanno invece o devi centellinare lo devi gestire come tutti gli altri cioè ragazzi a me non mi è piaciuta per niente la conferenza stampa di te rossi dite quello che vi pare per me è un allenatore che ancora troppa poca esperienza e secondo me tu devi adattare i giocatori che hai al tuo modo di giocare non il contrario non il contrario cioè se tu c'hai di bala e su lei che giocano lo stesso ruolo devi trovare un sistema per farli giocare insieme e il sistema è il 4 2 e il 4 3 2 1 li fai giocare tre quartisti tutte e due dietro la punta con libertà del movimento sul tutto il fronte d'attacco hai un centrocampo volto per cui sei coperto e sfrutti al meglio i giocatori che hai in rosa raga forse sono esagerato forse sono pessimista come al solito ma dopo tutti gli anni che ho cosato insomma permettetemi di essere un po' pessimista dopo tre sesti posti consecutivi e sulla questione gas drop ha detto che è stato chiaramente una decisione sua e io mi ricordo che quando è stato murigno dopo sassuolo roma a buttare fuori gas drop l'hanno massacrato invece de rossi lo può fare tranquillamente e serenamente nessuno gli dice niente si è visto che i calciatori lui non le conosceva quelle che ha preso chi solfì ma le ha presi chi solfì e lui le ha accettati per cui anche questo insomma mi pare una cosa non troppo consona cerca l'allenatore deve conosce i calciatori che vengono certo chiaro ne può giocare conosce tutti ma i ruoli fondamentali e deve conosce insomma raga una conferenza stampa un po' ambigua di de rossi ecco non si è parlato della formazione dei domani ha detto che forse giocherà parete se forse non giocherà ha detto chiaramente che due delle caratteristiche come parete se cristante non può non giocare insieme a questo già lo sapevamo dall'anno scorso quindi vedremo che tipo di formazione metterà in campo domani formazione che dovrebbe essere questa svillari in porta chiaramente celic mancini indica e angeligno dovrebbe rientrare parete se come regista mezzali dovrebbero agire le fe e pellegrini secondo me e poi secondo me saremo a vedere se giocherà di bala perché io non sono tanto sicuro che giochi di bala ragazzi domani ve lo dico sinceramente secondo me partirà con sulle dobic e e sharawi poi vediamo se magari sposta sulle a sinistra e mette di bala a destra o viceversa o fa un altro schema staremo a vedere ragazzi ripeto l'Empoli è una squadra che comunque va presa con le molle perché ha cambiato tanto allenatori e giocatori a fantasia lì a giocatori giovani che vogliono farsi vedere tipo Colombo tipo Fazzini tipo Esposito hanno comunque giocatori di esperienza per cui è una squadra da prendere con le molle non bisogna andare a pensare che l'Empoli viene qui a far vittima sacrificale perché c'è la differenza tecnica evidente non funziona così oltretutto secondo me dobbiamo anche un po' rimettere al loro posto dopo che l'anno scorso all'ultima giornata ci hanno battuto 2-1 e ci hanno pure preso per culo anzi direi che se siamo fatti prendere dal culo facendo una partita indegna all'ultima giornata per farli salvare se vola volemo di tutta per cui domani quindi li voglio massacrare questi qui li voglio massacrare sul campo per fargli capire rimetterli al posto loro non so voi come la pensate ragazzi ma per me è così per me è così ok questa è la situazione conferenza stampa e formazione sul fronte mercato tante notizie si stanno accavallando in queste ultime ore allora Abdulhamid dovrebbe essere sicuro al 99% sarà il nuovo terzino destro della Roma costo di 2 milioni e mezzo dovrebbe arrivare oggi per fare le visite mediche non so se sia già arrivato non credo comunque dovrebbe essere lui il terzino destro designato su Danzo ragazzi la Roma è forte ha fatto una prima offerta di 20 milioni ma il Enle vuole 25 quindi si sta comunque trattando sulla base magari di 20 più 5 di bonus facilmente raggiungibile per portarlo subito a Roma sul fronte con En ieri è stata emblematica la sua esclusione dal Borussia Mönchengladbach alla partita con Bayer Leverkusen anche perché i dirigenti stessi del Borussia hanno detto che è fuori rosa per un trasferimento imminente io spero che sia la Roma ragazzi perché ci serve come il pane un giocatore del genere a centro campo però c'è da dire che su di lui è forte anche il Milan che sta piazzando diversi giocatori in esubero e che quindi potrebbe avere la priorità del giocatore come ce l'ha avuta Fofana per Divya e Turam per la Juve e Fofana per il Milan perché comunque giocano la Champions e danno più garanzie quindi io ragazzi spero vivamente che arrivi con E perché è un giocatore che ci serve ma la vedo dura sull'esterno sinistro invece sempre i solidi nomi Boga, Pardo, Galeano, Zegrova non lo so se uno di questi alla fine arriverà ragazzi non ne ho la più pallida idea sul fronte cessioni invece sembra che Zaleschi e Bove possano rientrare in degli scambi con Milan e Napoli io giravo la voce di uno scambio con Gonge e Zaleschi poi Zaleschi invece sale Magers con il Milan e Bove che è interessato al Napoli e potrebbe essere scambiato con Gonge insomma c'è questo movimento di scambi e di contatti con queste due squadre c'è anche un interessamento sembra un po' più concreto per Abram da parte del West Ham ma cosa che si svilupperà sicuramente nell'ultima settimana di mercato vedremo ragazzi quello che succede la squadra va completata per forza in un modo o nell'altro per cui speriamo che i frittini facciano un ulteriore sforzo e possano dare a Daniele la squadra competitiva che ha chiesto altrimenti vedremo chi arriverà e come staremo al primo di settembre a mercato chiuso per adesso ragazzi pensiamo all'Empoli pensiamo alla vittoria che ci serve come il pane sosteniamo la squadra e quindi vediamo domani godiamoci questa partita senza pensare al mercato ragazzi vi saluto vi ringrazio grazie degli ultimi iscritti grazie dei like e dei commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete dei like attivate la campanella così rimanete aggiornati sui miei contenuti vi auguro un buon fine settimana e sempre Forza Roma